Buona domenica 2 luglio. Enzo Bianchi nel suo commento al Vangelo di oggi formula un titolo nel suo blog particolarmente interessante e significativo. È una questione di amore, sì perché il brano del Vangelo di oggi ci porta proprio alla dimensione dell'amore. È un discorso fondamentale che riguarda la missione stessa di ciascuno di noi che si prepara a essere protagonista della sequela del Vangelo, del seguire la strada che ci porta al Regno dei Cieli veniente su questa terra che non è qualcosa che viene trasportato in un luogo remoto, in un tempo remoto. È una esperienza concreta dell'esistenza umana possibile oggi se sappiamo sviluppare proprio la questione dell'amore anche nell'accoglienza della realtà della croce e della sofferenza e questo implica ovviamente l'apertura verso il dare, non il trattenere, il dare. Essere protagonisti di generosità ci apre alla trascendenza nella dimensione dell'amore, non un amore che assolutizza il possesso, ma un amore che si libera proprio da qualsiasi istanza del possedere. La vita stessa siamo chiamati a poterla anche perdere, averne coscienza per poterla vivere intensamente. Chi la trattiene la perderà, chi è disposto a perderla avrà la pienezza della vita eterna, un passaggio fondamentale nell'esperienza cristiana, un invito a una sequela. che ci porta alla radicalità del messaggio di salvezza. Il brano del Vangelo di oggi, come ci ricorda Enzo Bianchi, contiene l'ultima parte del discorso missionario rivolto da Gesù ai suoi discepoli, ai dodici inviati ad annunciare il regno dei cieli ormai vicini. I dodici sono chiamati ad annunciare il regno dei cieli vicino, vedete, questo significa incarnazione, invito al discernimento, a cogliere la radicalità della presenza del regno dei cieli che è contrapposto al regno della mondanità, che è divisivo. Il regno della mondanità è diabolico, è divisivo, parla di possedere, di conquistare, di competizione in senso peggiorativo dell'esistenza umana perché genera vincenti e perdenti. No, nel regno dei cieli c'è semplicemente l'appartenenza, la trascendenza nella dimensione dell'amore e della misericordia, che è nel figlio dell'uomo, nella parola che si è fatta carne e abita in mezzo a noi. E giustamente sottolinea Enzo Bianchi che tutto questo fa arretrare il potere del demonio, il potere del possesso e della divisione, antitetica sicuramente alla dimensione dell'amore. Diverse parole di Gesù sono state raccolte qui da Matteo, parole dette probabilmente in circostanze diverse ma che nel loro insieme determinano il contenuto e lo stile della missione e preannunciano anche le fatiche e le persecuzioni che i discepoli dovranno subire perché accadrà loro ciò che Gesù stesso, il loro maestro Arabi, ha sperimentato, questa coniugazione che in qualche maniera ci scandalizza, di croce e amore, rappresenta in modo straordinariamente perfetto la realtà dell'esistenza umana che è chiamata anche nel momento della difficoltà della croce e della persecuzione, esprimere in pienezza la propria disponibilità, lasciarci andare proprio alla dimensione dell'amore, un amore più grande di quello che noi nutriamo nei confronti di genitori e figli, rappresentano simbolicamente queste due realtà dei genitori e figli, la sacralità dell'amore ma sono espressione simbolica che indicano qualcosa di molto più grande, l'amore che è nella lasciarci andare alla trascendenza dell'infinita misericordia e dell'amore di Dio che dobbiamo accogliere, non siamo noi i costruttori dell'amore, siamo i servitori della dimensione dell'amore, siamo chiamati appunto a lasciarci andare alla dimensione dell'amore, ma leggiamo il brano del Vangelo di oggi, dal Vangelo secondo Matteo, in quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli, chi ama padre o madre più di me non è degno di me, questo potrà anche scandalizzare, amare l'altro, meno di quanto non si ami Gesù. questo invito ad amare la dimensione dell'amore incarnata in Gesù più di quanto noi possiamo amare coloro i quali hanno fatto sì che noi affrontassimo la luce della vita su questo pianeta, chi ama figlio o figlio più di me non è degno di me guardate che è fortissimo il riferimento perché riguarda le cose più intime della nostra esperienza quotidiana ci chiede Gesù di aprirci un amore più grande che tra l'altro questa apertura all'amore più grande ha il preciso significato di non possedere né i nostri genitori né i nostri figli viverli in una prospettiva autenticamente liberante chi non prende la propria croce e non mi segue non è degno di me questo implica l'apertura somma la dimensione dell'amore accettando anche la dimensione della croce chi avrà tenuto per sé la propria vita la perderà il trattenere significa vivere nella dimensione della perdita ma è chi avrà perduto la propria vita per causa mia che si lascia andare anche al sacrificio estremo a causa mia perché si apre alla dimensione della testimonianza dell'amore troverà la vita la troverà lì troverà la vita non perderà la vita la troverà nella sua più profonda autenticità nella sua più profonda essenza chi accoglie voi accoglie me è nell'altro nella prossimità che accogliamo questa dimensione di trascendenza dell'amore e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato vedete qui Gesù sottolinea che non si costituisce come idolatria rimanda anche lui alla trascendenza all'appartenenza al padre è straordinaria questa rappresentazione anche se ci soffermassimo solo all'aspetto simbolico sconvolge, scuote profondamente alla radice il nostro modo di stare al mondo chi accoglie un profeta perché è un profeta avrà la ricompensa del profeta e chi accoglie un giusto perché è un giusto avrà la ricompensa del giusto accogliere profezia, giustizia, questa è la ricompensa essere testimoni di profezia e di giustizia, questa è la ricompensa chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere d'acqua fresca a uno di questi piccoli perché è un discepolo in verità io vi dico non perderà la sua ricompensa dare per poter essere ricompensati ma quella ricompensa sarà generata dalla nostra disponibilità a trascendere noi stessi, a superare ogni stanza egocentrica e autoreferenziale per disporci in un percorso liberante all'insegna appunto alla dimensione dell'amore ha ragione Enzo Bianchi nel titolare questo commento al Vagero di oggi che dovrebbe rappresentare un punto di riferimento per l'intera nostra esistenza è una questione di amore buona domenica